49 Mistero Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, il quale, con la tua intercessione, dopo il corso di questa misera vita, si degni di assumere anche noi, Suoi e tuoi servi, costituendoci nel regno del Padre Suo. Amen.